Azioni sinergiche coordinate tra i comuni del comprensorio e quanto è stato deciso ieri nel corso della conferenza dei sindaci del distretto sanitario 72 Sala Consilina Polla per fronteggiare il coronavirus. I primi cittadini che sono le massime autorità sanitari sui territori comunali si sono trovati a dover affrontare una situazione nuova. Non sono stati lasciati soli, un ruolo fondamentale è stato quello della dottoressa Rosa D'Albano, a capo dell'unità prevenzione collettiva dell'ASL Salerno che è a disposizione nello spiegare come muoversi. L'ho fatto soprattutto nei giorni scorsi in cui c'è stata maggiore confusione sulle procedure da adottare. La dottoressa D'Albano c'era, come spiegato ieri mattina, da molti sindaci che sono stati e sono in stretto contatto con lei. Tra le azioni di precauzione volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica resta indispensabile la raccolta e il monitoraggio delle presenze e dei movimenti di coloro i quali provengono dalle cosiddette zone rosse e quindi oggetto di provvedimenti restrittivi o da zone limitrofe. È demandato ai sindaci il compito di incentivare i cittadini a comunicare gli spostamenti. Da qui poi si assumeranno le decisioni sul da farsi a seconda della provenienza dei soggetti, quindi si può consigliare la quarantena volontaria o attivare il protocollo che coinvolgerà l'ASL, come spiega nel dettaglio la dottoressa Rosa D'Albano. Zone chiamate rosse, che sono 11 comuni individuati e con decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020. Tutte le persone che vengono solo ed esclusivamente da queste zone è disposta attraverso la notizia che arriva al Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Prevenzione invia poi all'autorità sanitaria locale, viene disposta la quarantena obbligatoria. 14 giorni di osservazione, con controllo della temperatura almeno due volte al giorno e all'insorgere minimo di un sindome febbre, tosse o raffreddore, allora si attiva il triage con il 118 e viene preso in carico poi dal lente che provvederà poi alla cura della persona. Invece per le persone che sono nelle zone limitrope potremmo consigliare una quarantena volontaria ma assolutamente non obbligatoria, proprio perché non esiste nessuna norma, nessuna legge che ci indichi questo fatto. Il tampone è una metodica abbastanza particolare e abbastanza precisa, però viene fatta soltanto alle persone che sono sintomatiche e che hanno avuto comunque dei contatti con queste zone contagiate.